Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi sono qui per mostrarvi dove trovare l'anello della coloranzia, uno degli anelli più utili e fondamentali di tutto Dark Souls. La strada la potete vedere tranquillamente nel video, io appunto vi lascio al video, vi invito a iscrivervi al canale per le prossime guide e bella! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!